Musica Wewe ragazzi e bentornati Cosa ci faccio già nella mappa vi starete chiedendo Sto cercando la storm chest Perché oggi andremo a vedere loot che ci dropperanno precisamente 10 storm chest Vi anticipo che se questo video vi piace porterò lo stesso format Sia per i tiri al piattello sia per il muta forma sia per gli accampamenti eccetera eccetera Per chi non lo sapesse la storm chest è il forziere tempestoso Il forziere tempestoso si trova semplicemente girovagando nella mappa In modo totalmente randomico cioè completamente a caso Si troverà appunto una cassa in giro per la mappa Che aprendola darà inizio a un'ondata di zombie Noi dovremo effettuare 25 o 50 uccisioni a seconda della ricompensa che vogliamo Dopo le prime 25 uccisioni avremo il primo regalo, la prima ricompensa Dopo le 50 uccisioni dovremo effettuare altre due uccisioni su altre due mostri della nebbia Dopodiché ci verrà droppato anche il secondo regalo contenente la seconda ricompensa Nel 75% dei casi il forziere tempestoso lo troverete appunto a bordo mappa Nell'altro restante 25% è possibile che lo troviate anche al centro È possibile che ne troviate più di una? La risposta è sì, anche tre, anche quattro Intanto eccola qui l'abbiamo trovata Vi faccio vedere il mio zaino completamente vuoto Raga me lo sono svuotato completamente ho tenuto solo trappole e un paio di armi Per aiutarmi un po' neanche troppe E andrò ad affrontare i 10 storm chest Direi di partire subito, la apro E come vedete iniziano a nascere i primi mostri Ok lo so che il 90% delle persone che guarderà questo video dirà Ma chi no? Ma chi lo dice a fare? Lo so come funziona la storm chest Però non si sa mai che magari un domani questo video lo guarderà qualcuno di cui non ha conoscenza del salvo al mondo Qualcuno che comunque magari ha appena cominciato a giocare Lo so benissimo che non c'è bisogno che lo dico Però mi piacerebbe che comunque tornasse utile per qualcuno Detto questo le prossime storm chest saranno molto molto velocizzate Non preoccupatevi mi conoscete e sapete che non vi faccio annoiare durante il video Ok la prima è andata Aspettiamo la ricompensa Anzi le ricompense, grazie mille Una lucida che mi vado a prendere Eccole qua Un po' di raggio e un po' di corlucente Ricordiamo che ci danno anche delle armi in questo caso 4 di corlucente e 4 di raggio Una spada in corlucente che andrò a riciclare alla fine Mi darebbe 9 di ossidata Comunque alla fine del video ricicleremo tutte le armi che ci danno Eccoci sulla seconda storm chest Andrò a affrontarle tutte quante in singolo Per mostrarvi che vi basterà formare un team In sostanza anche se siete tutti di livello sotto al 100 Basterà che comunque siete in 4 Uno che vi porta nella zona E comunque siete di grande aiuto Fidatevi Eccoci con la terza storm chest Vado subito ad affrontarla per voi Facciamo Mi metto la lama spettrale in mano E let's go Get it Solite due ricompense che mi vado subito a fregare La quarta storm chest Io vi consiglio sempre Cioè vedete che qua ci sono questi zombie Adesso io li lascio vivi un po' Aspetto a killarli Magari lancio la torretta che se li fa lei Così conteranno come uccisioni appunto per la storm chest Diciamo che ne spawnano di più Fate più uccisioni velocemente Ecco in sostanza Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Quinta storm chest Con tanto di mucche qua vicino a me Ah così mi sento ben riparato Grazie mucche La numero 6 Combattiamo subito Più bello quando abbiamo il campo libero Rispetto a quando abbiamo troppe cose di intralcio Questa è la settima storm chest Lanciamo le solite due torrette che ci aiutano un sacco Magari uno standardo se andate a livelli alti Tanto se vi lanciate comunque lo standardo Lo utilizzate una volta Lo piazzate lì vicino alla storm chest E non vi preoccupate nemmeno di morire Perché sapete Se morite troppe volte Rischiate che comunque l'ondata si interrompe E non facciate in tempo a prendere O la seconda ricompensa O nella peggiore dell'ipotesi Neanche la prima Numero 8 Questa è la penultima Dai ancora poco e abbiamo finito Eccoci alla decima e ultima storm chest Allora Eccoci qua nel mio scudo di tempesta Con tutti i risultati Abbiamo un botto di armi Vediamo Proviamo a droppare tutto quanto in terra Ok queste tre erano mie Lo sapete E queste sono le armi ottenute Vediamo i materiali 44 di raggio 32 di corlucente 28 di scaglia 44 ossidiana Un po' di roba 5 marchigegni 8 di quarzo Insomma Un po' di roba l'abbiamo fatta Ricordo che adesso andrà anche a riciclare le armi Tutto questo da 10 storm chest Precisamente 10 storm chest Vediamo allora Ricicliamo tutto Un totale 55 efficienti mi danno tutte ste armi Grande GG E un po' di armi da mischia Altri 14 efficienti 21 di ossidata Per un totale di 55 di raggio 69 efficienti Una lucida 28 di polvere ossidata 12 di spago intagliato 30 di scaglia buia 52 di corlucente E questi sono i miei risultati da 10 storm chest Raga io vi ricordo che se questa idea vi piace Proporrò lo stesso format anche per il tiro al piattello Per gli accampamenti Mutaforma Bottino troll leggendario Insomma ci sono un sacco di argomenti che vorrei trattare Un sacco di farming che potremo portare sul canale Fatemi sapere solamente la vostra con un commento Che dire Io per oggi non posso fare altro che salutarvi Noi ricordate che ci vediamo domani Bella bella a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti